Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente tutti i nostri ospiti, in maniera particolare il direttore dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, Hans Brunix, con cui stiamo veramente collaborando spalla a spalla e gli faccio ovviamente i complimenti per il grande lavoro che l'Agenzia sta facendo e anche per questo cambiamento nuovo di strategia che mira a coinvolgere sempre di più i Paesi membri e anche i territori. Ma abbiamo già visto un certo numero di dati, dati che sono stati raccolti sono migliaia, sono collezionati in vari tipi di prodotti che qui sono brevemente riportati, in questa presentazione abbiamo cercato di, attraverso due chiavi di lettura a una delle serie storiche e altri indici complessi, di cercare di dare un proprio un'idea, un trend, un collocamento anche dello stato ambientale del nostro Paese rispetto al resto d'Europa, seguendo in maniera molto dettagliata anche lo schema che è stato fatto vedere prima nel SOER, cioè attraverso le tre priorità del settimo programma quadro costituiti appunto dal capitale naturale, economia, basse emissioni di carbonio ed efficiente dell'impiego delle risorse, della salute e benessere dei cittadini. Abbiamo anche cercato di fare un collegamento con quelli che sono i due, come posso dire, i due driver internazionali molto importanti, uno è stato già ampiamente citato che è lo European Green Deal, quell'altro sono gli obiettivi, i 17 goal dell'agenda 2030. Iniziamo parlando del capitale naturale, la situazione non è molto dissimile a quella europea, c'è una grande minaccia della nostra biodiversità, una perdita di biodiversità in tutto il Paese, per quanto come si può vedere da questo grafico, se guardiamo le aree protette terrestri, soprattutto dopo l'approvazione della legge istitutiva dei parchi, della riforma dei parchi, la 394, come si può vedere dal grafico abbiamo avuto un notevole incremento delle aree protette che vanno dai parchi nazionali alle riserve naturali statali ma anche quelle regionali, che un po' si è in maniera sintotica affermata, per quanto anche nei recenti provvedimenti nazionali c'è una spinta da parte del governo di valorizzare ancora di più queste aree. Abbiamo dei grandissimi problemi a proposito di minaccia della biodiversità riguardo l'introduzione di specie all'octone, sono specie che hanno anche a volte un'importanza non solo nell'alterare l'ecosistema ma anche a creare tantissimi problemi economici. Si vede che lì abbiamo avuto solo dal 2000 al 2017 l'introduzione di oltre 200 specie, è lo stesso numero che abbiamo avuto dal 1900 al 1979 a dimostrare che questa minaccia è molto forte. forte. Le aree marine protette sono aumentate, due aree marine protette sono state anche realizzate nel 2018, nell'ambito del programma europeo della strategia marina dobbiamo rilevare un certo numero di rifiuti spiaggiati, sia macro che micro, tutto il tema delle plastiche a noi è molto caro, su cui con l'istituto stiamo anche lavorando dal punto di vista della ricerca e per capire anche che tipo di minaccia le microplastiche attuano nei confronti di diverse specie animali, dicevo che la situazione non è sicuramente quella dei grandi oceani asiatici ma è una situazione assolutamente da tenere sotto controllo. Abbiamo fatto poi questo lavoro direi abbastanza specifico sulla vifauna dove abbiamo verificato su sei specie migratorie a lungo raggio che capacità di resilienza rispetto alle date di migrazione dovute che hanno subito e subiscono delle variazioni in base ai cambiamenti climatici, quanto erano in grado di adattarsi, quanto sono resilienti e il dato non è estremamente confortante perché solo un terzo delle specie è stato di questi grandi migratori è stato in grado in un qualche modo di adattarsi alle diverse condizioni climatiche, a testimoniare che anche sulla vifauna la pressione è molto forte relativamente al cambiamento climatico ed è una minaccia per questo tipo di specie animali. Sul consumo di suolo nonostante le diverse crisi, vedete nella diapositiva dove vengono mostrati il trend attuale che è questo dei pallini neri non tende comunque a diminuire significativamente per quanto i target che ci vengono dati dai cosiddetti SDGs, cioè dagli indicatori dell'agenda 2030 sono molto impegnativi al 2050 e sono anche impegnativi le indicazioni che vengono date al 2050 dall'Unione Europea. Un occhio di riguardo va dato anche alle tipiche caratteristiche purtroppo del nostro Paese, una grande vulnerabilità, nella diapositiva destra sono messi in evidenza quelle che sono situazioni di criticità dovute a un certo numero di frane che non tendono a diminuire significativamente nel nostro Paese, abbiamo recentemente anche qui lanciato un portale per cercare di coinvolgere anche i cittadini nelle segnalazioni attraverso questi processi di citizen science. Insomma se guardiamo l'indice complesso, un indice che tiene conto di vari indicatori, abbiamo usato una metodologia che è stata utilizzata e sperimentata nel cosiddetto BES, cioè il bilancio di sostenibilità economico sostenibile che è stato applicato da diversi anni al bilancio del nostro Stato, questi indici hanno un codice che si chiama AMPI, indici complessi, non sto qui a spiegarlo, però ci dicono che il trend, così come tra l'altro mostrato da Hans Brunix prima, è un trend che ci dice che la situazione è assolutamente da tenere sotto controllo negativo e che molto probabilmente anche attraverso la strategia lanciata dalla Commissione europea qualche giorno fa sulla protezione della biodiversità sicuramente va implementata, va seguita e va assecondata. Cambiamenti climatici e economia circolare, emissioni di gas serra, ma direi qui il dato è un dato confortante, c'è ancora molto da lavorare, però non c'è dubbio che nel tempo, anche in base, seguendo anche quelli che sono stati i grandi accordi internazionali, abbiamo avuto una riduzione significativa del gas serra. Il gas serra, questa riduzione ovviamente la si è avuta moltissimo nel settore energetico, intendendo per settore energetico dalla mobilità all'edilizia sostenibile all'edilizia, scusate, ovviamente anche alla produzione di energia. Gli indicatori energetici sono importanti, è stato fatto vedere anche prima in alcune diapositive, sempre dal direttore dell'Agenzia europea, c'è stato un notevole incremento riguardo al consumo di energia elettrica di rinnovabili, siamo oltre il 17% vicini a raggiungere i target che ci sono stati posti sempre a livello europeo nella famosa 2020-2020 e quindi quest'anno abbiamo raggiunto e superato questo target. Così come è interessante nel grafico di destra vedere questa, paragonare questa linea blu che è il prodotto interno lordo e quella più in basso, quella verde dell'intensità di CO2 dove si vede sostanzialmente che il cosiddetto decoupling, cioè un trend inverso rispetto alla crescita economica si sta raggiungendo a fronte appunto di uno sviluppo delle rinnovabili e anche di un efficientamento energetico soprattutto realizzato alla fine del secolo scorso sui grandi impianti di produzione di energia elettrica. Siamo andati oltre, ci siamo lanciati in una stima per il 2020 tenendo in considerazione quello che è successo durante il periodo del lockdown. Quindi abbiamo di fatto paragonato, abbiamo fatto una serie di proiezioni divise per settori, quindi dalla produzione di energia all'industria dei trasporti, si vede che si stima al 2020 una probabile riduzione di circa e di oltre il 5% delle emissioni di CO2 che chiaramente sono dovuto a una situazione particolare, ma che ci indica ad esempio come il contributo dei trasporti, così come ovviamente quella produzione di energia, siano molto importanti e su cui soprattutto sui trasporti molto probabilmente ci sarà da lavorare moltissimo se vogliamo poi raggiungere quei target molto sfidanti che ci pone il contesto internazionale. Quindi in questo caso lo stesso codice Ampi ci indica un trend assolutamente positivo, così come lo vedremo è molto positivo rispetto all'efficientamento dell'uso della materia partendo dal ragionamento sulla produzione dei rifiuti raccolta differenziata. Le considerazioni non sono molto diverse da quella che faceva prima il direttore dell'Agenzia Europea, perché vedete nel grafico di sinistra come non ci sia in questo caso il cosiddetto decapling, cioè quella linea rossa che rappresenta la produzione di rifiuti urbani segue abbastanza diligentemente sia la spesa per i consumi delle famiglie che il PIL, a testimoniare che nel momento in cui c'è un minimo di ripresa economica la produzione di rifiuti cresce. Ciò che aumenta è la percentuale di raccolta differenziata, dove c'è stato, rispetto anche ai dati che sono presenti del SOER, un ulteriore incremento nel 2018 e nel 2019. Anche qua ci siamo cimentati in una proiezione rispetto a ciò che è successo durante il periodo del Covid, dove c'è stato un decremento significativo di produzione di rifiuti urbani di quasi il 10-12%. decremento che vedete se guardiamo la proiezione, vedete che dal 2009 ad oggi sostanzialmente la produzione di rifiuti urbani non è che ha avuto delle grosse differenze, il trend è un trend abbastanza lineare. Ci sarà molto probabilmente una riduzione di quasi il 10% nel 2020 dovuta molto a questo periodo, che è stato un periodo di grandissima difficoltà economica. Quindi sempre un indice complesso positivo in questo caso, intendendo per positivo la percentuale di raccolta differenziata, non certamente il tema della produzione su cui vale lo stesso ragionamento che veniva fatto prima. Non ci sarà ovviamente un'inversione di tendenza molto forte se non si cercherà di lavorare molto anche sulla produzione dei beni. Però ecco, mi piace far vedere queste due diapositive che riguardano sostanzialmente anche qui un dato riportato anche prima nel SOER, cioè nella produttività delle risorse, cioè nella capacità sostanzialmente di, pur mantenendo un livello di benessere elevato, qui vediamo il PIL, il prodotto interno lordo, la linea tratteggiata, vediamo che dal 2008 in poi, il 2008 è il periodo della grande crisi economica, in realtà c'è stato un processo molto interessante di efficientamento delle risorse, perché c'è quindi la capacità di mantenere livelli alti di benessere, sfruttando meno le risorse e lavorando di più sulla circolarità dei materiali. Come si vede infatti da queste due diapositive, sulla destra c'è questo tasso di uso circolare dei materiali, questo è un dato Eurostat, cioè un'elaborazione dei dati ISPRA su dati ISTAT, dove si vede che il tasso di uso circolare dei materiali, quindi un indice di efficientamento, siamo abbondantemente sopra alla media dei paesi UE. Così come è interessante vedere un altro indice complesso, che è il carbon footprint, che anche in questo caso ci mette in evidenza, se guardiamo la produzione e facciamo il confronto con i 27 paesi dell'Unione Europea, come il valore della carbon footprint delle attività produttive sia un valore più basso di quello della media dei paesi UE, a testimoniare anche qui una certa efficienza dell'apparato produttivo del nostro paese. Comunque sul tema dell'economia circolare, del monitoraggio sull'economia circolare, a testimoniare dell'importanza che come paese vogliamo dare, vogliamo indicare ai decisori politici, insieme appunto proprio all'Agenzia Europea per l'Ambiente, alle PN Network, abbiamo deciso di fare un ulteriore approfondimento, tenendo presente i famosi principi di bellaggio della sostenibilità, di fare un focus, che si concluderà poi in ottobre, sul monitoraggio sui indicatori dell'economia circolare, insomma nel sottolineare il fatto che per noi questo tema è un tema di assoluta priorità e su cui il nostro apparato produttivo già è in una fase di crescita e può dare sicuramente un contributo anche a tutto il resto d'Europa. Ambiente benessere, ambiente salute, un tema che è diventato particolarmente cogente alla luce anche della pandemia che abbiamo vissuto e che ancora stiamo vivendo recente. Temperatura media, perché la temperatura l'abbiamo inserita? In realtà la temperatura è un indicatore che poteva essere inserito anche nella parte sui cambiamenti climatici, in realtà voglio ricordare, non ce ne siamo dimenticati che nel 2003 con l'ondata di calore molto intensa che ci fu, ci furono ben documentati in Italia oltre 7 mila morti, purtroppo queste sono macabre classifiche, non sono certamente i 33 mila della pandemia del virus ad oggi, ma è comunque il tema delle ondate di calore, è un tema che dal punto di vista dell'impatto sulla salute non va assolutamente sminuito, ma deve essere tenuto assolutamente in considerazione. Qualità dell'aria, è stato detto prima rispetto alla qualità dell'aria c'è un trend anche qui sicuramente in miglioramento se si guardano gli indicatori a livello europeo, se guardiamo gli obiettivi che ci vengono dati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità siamo ancora abbastanza lontani da quelli che dovrebbero essere dei valori ottimali. Se guardiamo soprattutto la percentuale dei superamenti del PM10 nel 2019, addirittura abbiamo avuto un leggero aumento nelle oltre 100 stazioni di monitoraggio. Quindi è assolutamente una questione da considerare e da tenere soprattutto in alcune parti del paese, mi riferisco alla pianura padana, ma non solo, anche in alcune zone soprattutto del Lazio, dove gli sforamenti sono sforamenti che vanno oltre a quelli che sono i limiti consentiti. Valori elevati abbiamo ancora per quanto riguarda un altro inquinante che è l'ozono troppo sferico, mentre così abbiamo lo stesso ovviamente trend che veniva mostrato prima dal Dans, Brunix, rispetto al biossido di azoto dove vi è una notevole tendenza al miglioramento. Anche qua abbiamo finalmente, siamo riusciti a fare una comparazione tra ciò che è successo nel lockdown nel mese di marzo e con la media delle concentrazioni di polveri e di biossido di azoto dal 2013 al 2018. Quindi abbiamo preso il mese di marzo come mese di riferimento e guardando, vedete che sono due andamenti diversi. A vostra sinistra, guardando gli schermi, dove si parla di PM10, possiamo vedere che l'effetto di riduzione dovuto al lockdown è stato un po' a macchia di lopardo, cioè abbiamo avuto delle situazioni dove rispetto alla media del 2013-2018 diminuzioni anche oltre il 30% della concentrazione di polveri, ma situazione, vedete, dove ci sono quei pallini rossi o comunque beige o marroncino, addirittura degli aumenti. Come mai è successo questo? Perché nel mese di marzo abbiamo avuto causa correnti in alta atmosfera un trasferimento notevole di concentrazione di polveri dal Caucaso che si è riversato proprio in quel periodo sul nostro paese. Diverso se guardiamo invece il biossido di azoto, che è un indicatore specifico della combustione diretta in senso generale, dove vediamo invece che i pallini sono praticamente tutti blu, a significare addirittura riduzioni che vanno dal 30% al 50% delle concentrazioni di biossido di azoto in quel periodo. Ripeto, queste sono situazioni che sicuramente hanno fatto bene all'ambiente e ai nostri polmoni, sono situazioni eccezionali, ma devono assolutamente essere tenute in considerazione perché significa che lavorando magari su metodologie, su modalità alternative di trasporto o anche efficientando di più il sistema energetico, molto probabilmente è possibile migliorare queste condizioni. Qualcosa sulle pressioni esercitate, anche qua è stato ricordato sia dal Ministro ma anche da Brunic sul tema dei pesticidi. Nella strategia emanata recentemente sulla biodiversità, l'obiettivo è quello di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi di natura sintetica, chimica. Quindi la pressione, vedete, se guardiamo la distribuzione per uso agricolo, che è il grafico di sinistra, c'è stata una leggera diminuzione, un trend di diminuzione per quello che riguarda i fungicidi, non per gli erbicidi e per gli insetticidi, così come rispetto a ciò che si rileva sia nelle acque superficiali che nelle acque sotterranee, vi sono ancora percentuali significative, soprattutto nelle acque superficiali, di percentuali oltre lo standard ambientale di qualità indicato a livello europeo. Sempre rimanendo nel campo dell'agricoltura, si parlava anche qua della pressione di un certo tipo di agricoltura, queste sono le emissioni di ammoniaca, si è discusso molto recentemente anche qui nel nostro paese, quello azzurra, il grafico superiore è in realtà la concentrazione dell'ammoniaca in generale, quello in rosso è la concentrazione dell'ammoniaca prodotta dal sistema agricolo. Quindi è evidente che influenza moltissimo gli allevamenti intensivi, sono soprattutto quelli che influenzano molto questo parametro, per quanto anche qua vedete assolutamente in diminuzione. I cosiddetti campi elettromagnetici, i superamenti dei limiti normativi, l'abbiamo avuto in pochi casi nelle impianti radio tv e nei impianti radio base, non sfugge a nessuno che con l'introduzione del 5G il tema dei campi elettromagnetici tornerà prepotentemente all'attenzione anche delle strutture di controllo come la nostra, già siamo impegnati ma lo saremo sempre di più nel futuro. Qui c'è un indice che purtroppo non c'è un indice complesso ampi per ambiente salute, abbiamo utilizzato questo indice sulla qualità dell'aria dove come dicevo prima ci mostra sicuramente un trend in miglioramento ma non è un miglioramento tale, ripeto, da poter raggiungere quegli obiettivi indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A questo proposito, visto che sul tema ambiente salute, come dicevo prima, le richieste stanno diventando pressanti da parte non solo delle istituzioni ma anche dai cittadini, la necessità di capire ad esempio come una pandemia come quella che abbiamo vissuto sia in un qualche modo correlata a situazioni legate all'inquinamento atmosferico. Ci hanno portato a lanciare due progetti importanti insieme a altri istituti di ricerca e a tutte le agenzie ambientali che sono quelle che sul territorio poi rilevano materialmente i dati. Sono due progetti che riteniamo molto importanti che tendono e spero diano qualche risposta su questo tipo di correlazione sia da un punto di vista epidemiologico ma anche da un punto di vista proprio di interazione tra eventualmente il virus o altri virus o altri microorganismi e le pressioni esercitate dall'inquinamento atmosferico. Quindi ambiente e salute in questo caso diventano assolutamente prioritari. Non sto ad indicare sorvolo su tutti quelli che sono gli impegni, ricordava il Presidente Conte la cabina di regia Benessere Italia dove noi siamo appieno all'interno e dove stiamo cercando di dare un supporto al governo ma così come siamo impegnati nella strategia della biodiversità, nel piano energia e clima e siamo molto impegnati anche sul programma Copernicus. Per concludere, mi associo a moltissime delle considerazioni, anzi direi condivido pienamente i warning e le preoccupazioni lanciate da Hans Brunix perché la sfida oggi è veramente elevata. Concludo, ho portato qui una frase tratta da questo libro bellissimo di Aurelio Peccei, 100 pagine per l'avenire. Peccei già nel 1980, in realtà ancora prima, diceva in una fase di piena crescita economica che qualche problema a questo sistema di sviluppo lo evidenziava, che c'era una minaccia all'orizzonte dovuta all'inquinamento, dovuta appunto a una forte pressione sul nostro grande bene comune che è l'ambiente e diceva che probabilmente è necessario anche fare qualche sacrificio, sempre però inferiore, diceva quello che potrebbe essere necessario in una condizione diversa. Oggi siamo di fronte a un quadro completamente diverso, un quadro dove il Green Deal, l'ambiente, come abbiamo sentito prima dal Presidente Sassoli, dal Presidente del Consiglio, dalle parole della Commissaria von der Leyen, l'ambiente è stato messo al centro di una nuova idea di sviluppo. Ecco, questo ovviamente per chi ha lavorato anni su questi temi è una grande soddisfazione, è una grande possibilità per poter vedere realizzato un percorso diverso rispetto al passato, rimane comunque un piccolo rammarico che ci sono voluti quasi 40 anni per capire che la strada che avevamo imboccato probabilmente non era la strada giusta. Grazie.